Prova a vendere alcune proprietà immobiliari di pregio il comune di Gubbio, attraverso gara pubblica aperta fino al 18 gennaio, con vendita al miglior offerente. Dei circa 30 immobili presenti nel bando, la maggior parte sono terreni edificabili e non in periferia. Da Spada a Nogna, da Padule a San Benedetto Vecchio, da Mocaiana a Branca. Speccano però alcuni edifici nel centro storico cittadino. In primis lo splendido Palazzo Fonti, in via Savelli della Porta, per cui la sovrintendenza ha autorizzato il cambio di destinazione d'uso da uffici ad abitazione. L'immobile, per superficie complessiva di circa 460 metri quadrati, parte da un prezzo base di 434 mila euro. Il palazzo appartenne a uno dei tre rami della famiglia Biscaccianti, quello dei Biscaccianti della Fonte, nome assunto per via della fonte presente ancora oggi, proprio davanti all'edificio, e per potersi distinguere dai parenti. Altro immobile di pregio in vendita è Palazzo Palmi, in via 20 Settembre, nel cuore del centro storico. Due distinte porzioni, per un totale di oltre 190 metri quadrati, 58 più 122, che partono da un prezzo base complessivo di 210 mila euro. Allo stato attuale, i locali internamente risultano allo stato grezzo, privi di finiture e impianti. È stata inoltrata alla sovrintendenza la richiesta di cambio di destinazione d'uso da uffici ad abitazione. Un appartamento era già stato venduto, mesi orsono, per 216 mila euro. Tra le pagine del bando di gara, anche il fabbricato di epoca medievale, di Viarmani numero 16, dotato di una corte di proprietà a due passi dall'ex palestra di San Pietro, valori di mercato 241 mila euro, per una superficie ragguagliata di circa 114 metri quadri e un'unità immobiliare in via Federico da Montefeltro, già via Ducale, con appartamento e soffitta, prezzo base 264 mila euro. Un'operazione, quella della vendita, che potrebbe fare incassare al comune quasi 3 milioni di euro in totale. Nel 2022 una gara analoga aveva registrato oltre 349 mila euro. Iniziative importanti queste, come spiegato dall'assessore al patrimonio Rita Cecchetti, che ci permettono di acquisire liquidità e valorizzare il patrimonio di proprietà comunale. Tra qualche settimana si capirà se c'è stato interesse per le vendite.